Eccolo il video proveniente dalle telecamere della sinagoga che ha incastrato il giovane italiano sulla Trentina circa responsabile di atti vandalici notturni contro la sinagoga di Trieste. Atti vandalici commessi prima il 24 ottobre 2019 e poi il 3 gennaio scorso. L'uomo immortalato dalle videocamere prima si vede che ci passa sotto facendosi il segno della croce e poi un altro gesto rivolto all'apparecchio, poi con fare circospetto percorre più volte la strada per sincerarsi che non passi nessuno in quel momento. Infine, prima di andare via, si arrampica sulla parete e tira un pugno alla vetrata. Poi si dilegua, ma non prima di indirizzare degli immaginari colpi di pistola verso la telecamera più lontana, la prima che lo ha ripreso a inizio del video. In conferenza stampa in questura ci hanno poi parlato del soggetto, un trentenne italiano, residente da due anni a Trieste, gravato da altri precedenti penali, disoccupato che percepisce il reddito di cittadinanza. L'uomo, quando è stato pizzicato dagli agenti e portato in questura per essere interrogato, ha ammesso il fatto e ha anche proferito frasi ai poliziotti che lo scortavano, che denotano un certo spirito violento verso la comunità ebraica. Gli ebrei li ucciderei tutti, una delle frasi riportate, e poi ancora, indirizzato agli agenti che lo avevano preso in custodia, se voi foste ebrei vi ucciderei. Il trentenne stesso ha spiegato agli investigatori come la sua condotta avesse infatti motivazioni religiose alla base.